Nero Alessandri, buonasera e bentrovato. A voi, grazie per l'intervista. Allora, cominciamo dalla notizia del giorno per quanto vi riguarda. Voi siete i fornitori ufficiali delle Olimpiadi, è una notizia bellissima per voi e anche per il paese che rappresentate. Siamo orgogliosi e anche responsabili di questo impegno che significa allenare più di 11.000 atleti durante Tokyo 2020, che si svolgeranno la prossima estate. È una prima medaglia d'oro per l'Italia. Siamo molto carichi, anche se il pubblico sarà solo giapponese. Quindi noi avremo la prima volta un'Olimpiade con un'unica nazione. Di solito sono 100 nazionalità presenti. Per come si erano messe le cose, è già un bel risultato fare le Olimpiadi, no? Assolutamente, sì. In cosa si traduce la vostra presenza lì? Al riempire le palestre di vostri attrezzi su cui si alleneranno poi i protagonisti delle gare olimpiche, giusto? Sì, anche qualcosa di più, nel senso che noi daremo anche un servizio con il supporto dei nostri trainer, i nostri medici, quindi c'è tutto un servizio che viene organizzato perché pensare a 10, 11, 12 mila atleti significa comunque un'organizzazione di 100 persone nostre che saranno presenti. Quindi significa anche sicurezza, significa competenza. Quindi devo dire che non è solo la tecnologia, usiamo la parte digitale perché diamo anche la possibilità alle persone di fare il tracking, di misurare, di fare dei test, di vedere la loro forma fisica, la loro prestazione per le varie qualità. Quindi c'è un supporto che a seconda delle discipline, con anche macchine ad hoc per diciamo le specifiche esigenze. Diciamo che state traducendo su numeri grandi quello che poi fate nell'home fitness, soprattutto in questo periodo, Alessandri. Sì, direi anche un po' il contrario, nel senso che grazie ai campioni come nella Formula 1, poi noi ci portiamo a casa i feedback e ci portiamo a casa anche, come dire, delle idee che poi vengono rese disponibili anche all'home fitness. L'home fitness di fatto ha un approccio leggermente diverso perché parliamo che alle Olimpiadi ci sono dei prodotti estremamente di alta performance. In cosa si traduce poi dal punto di vista dello sforzo? Perché portare, quanti attrezzi porterete in Giappone? Beh, alla fine saranno circa 2000 diciamo più o meno macchine, più tutti i pesi, manubri, bilancieri, dischi suddivisi in 14 palestre nelle varie facility, nelle varie aree perché le Olimpiadi sono distribuite in più location, poi c'è il villaggio olimpico, quello principale che verrà utilizzato anche un fitness center per tutta la gente che lavora, per le persone che sono lì presenti perché è comunque un grande momento sportivo non solo per gli sportivi ma anche per i medici, i fisioterapisti, per gli allenatori eccetera che stando lì si devono allenare anche loro. Se non vado errato non è la prima volta che voi fate una manifestazione del genere, che seguite una manifestazione del genere da protagonisti, no? Questa è l'ottava, ottava. Negli ultimi vent'anni l'ottava volta. Torniamo però all'aspetto che stavamo raccontando, i riferimenti di quello che state facendo dal punto di vista finanziario e dal punto di vista del marchio e del marchio Italia. Perché voi rappresentate non solo un'eccellenza per quanto vi riguarda, ma rappresentate un'eccellenza del Paese. In tutto questo contesto che tipo di ritorno potrà avere anche il Paese, non solo voi, da questa operazione tanto importante come le Olimpiadi? Ma allora, la cosa molto interessante è che comunque il Comitato Olimpico ha scelto Technology per la qualità dei prodotti, l'affidabilità, perché immaginiamoci e scongiuriamo che un'altezza si faccia male prima di una competizione sarebbe. Dopodiché gli atleti ritrovano nelle palestre dell'Olimpiadi le stesse attrezzature e tecnologie che hanno a casa, perché noi lavoriamo con tutti i centri federali e i centri di preparazione atletica di tantissime discipline. Inoltre, moltissimi atleti, ricordo Nadal quando era la sua prima gara fino ad oggi, che per tre Olimpiadi, da lontano Pechino 2008, ritrova gli stessi prodotti. Quindi noi abbiamo un 30% di atleti che ruotano e sono sempre gli stessi e ritrovano gli stessi prodotti. Non solo quelli che utilizzano i centri sportivi, ma anche quelli che poi si ritrovano presso le palestre delle Olimpiadi. Quindi siamo parte della famiglia olimpica e quindi questo è prima di tutto il motivo perché siamo scelti. E quindi è una questione di design, di tecnologia ovviamente, ma anche e soprattutto di affidabilità. E poi abbiamo anche le macchine specifiche per le pare Olimpiadi, perché noi abbiamo anche delle macchine speciali che vengono fatte, per esempio ti inserisci con la carrozzina, puoi fare gli stessi esercizi. Abbiamo creato delle macchine speciali per le pare Olimpiadi che sono altrettanto importanti. Ecco, una cosa importantissima è quello che sta accadendo nel mondo, ne abbiamo parlato più volte con lei quest'anno Alessandri, ha un po' cambiato le abitudini di tantissime persone nel rapporto con il fitness, quello delle palestre e quello fatto in casa. Lei si è posto in una maniera molto forte verticalmente nei confronti di questo mercato perché oltre ad aver alimentato la crescita delle palestre fino a qualche anno fa, poi ha trasferito questo know-how all'interno delle case di tantissime persone. Ma come vede cambiare l'attitudine delle persone? Tutto quello che abbiamo vissuto in qualche modo ha incrementato l'attenzione? Qual è il suo punto di vista in questa direzione? Sì, sfortunatamente per tutte le persone che non stanno bene e che hanno avuto grossissimi problemi, come tutte le crisi creano anche delle opportunità le crisi. Ad esempio, la salute è salita al vertice delle priorità di tutti. Fino a un anno fa, due anni fa c'era il fatalismo, c'è la salute, la prevenzione non veniva considerata. Oggi, da un'indagine che abbiamo fatto in Asia, ma soprattutto negli Stati Uniti, la salute e la prevenzione è al primo posto come bisogno e come attenzione nello spending e nella scelta, diciamo, della gestione del proprio tempo. Che significa? Combattere il diabete, combattere l'obesità, combattere l'ipertensione. Questo Covid ha creato una depressione nelle malattie mentali diffuse con delle percentuali incredibili. Il 60% delle persone hanno aumentato il peso, il 40% delle persone dormono peggio di prima e non do dei numeri di altro tipo per non spaventare nessuno. Quindi, cosa significa questo? Significa prevenzione, perché il Covid ha colpito mortalmente e in modo pesante soprattutto le persone obese e le persone con delle malattie cardiovascolari. Quindi questo ha vantaggio dello Stato, delle persone e delle aziende. Dopodiché noi crediamo, e concludo, che ciò che succederà nei prossimi mesi e anni non sarà ginnastica solo a casa o ginnastica solo in palestra, ma ci sarà una formula ibrida. Cioè la casa, l'abitudine di fare ginnastica in casa si aggiunge e non sostituisce l'impianto sportivo, la piscina, il fisioterapista. Quindi lei vede una ripartenza comunque di tutto quello che era, tra virgolette, normale prima, a cui aggiungiamo anche le abitudini migliori. E come dire il delivery dei ristoranti. Non è che il delivery a casa fa chiudere i ristoranti e non ci saranno più i ristoranti perché ci sarà solo il delivery. Ci sarà il delivery e i ristoranti. Non si andrà solo al ristorante, ma si mangerà anche a casa. In molte città non si andava più neanche a casa, si mangiava solo fuori in azienda o fuori nel ristorante. Appena aprono i ristoranti si riempiono. Così come in Cina appena ho aperto le palestre si sono riempiti. C'è un boom in Cina nelle palestre più di prima. Ma perché? Perché c'è molta più gente di prima che vuole fare ginnastica. Perché c'era una piccola percentuale di persone che andava in palestra. Adesso ci può essere una grande percentuale di persone che sta sia a casa che in palestra. Nel suo campo qual è lo sviluppo che state segnando anche dal punto di vista tecnologico? Se ci dovesse dare già delle chicche per quanto riguarda l'immediato futuro, lei che cosa sta facendo? Ma noi siamo un'azienda digitale da tantissimi anni perché produciamo e vendiamo software nel business to business e adesso lo stiamo facendo per il business to consumer. Quindi l'ecosistema. Noi siamo una Apple del wellness. Quindi noi abbiamo il prodotto… Ecco questa se mi permetti, visto che comunque la registrazione non è che va tutta, questa la scelgo come titolo dell'articolo. Ti piace? Siamo veramente onorati di poterlo dire perché noi crediamo nell'ecosistema che significa non solo un attrezzo ma un attrezzo intelligente che significa connesso con un'elettronica e lo facciamo da sempre. Siamo state la prima azienda al mondo 12 anni fa a fare l'Internet of Things, cioè la macchina ginnastica collegata al Wi-Fi. Siamo stata la prima azienda al mondo a fare il software per la gestione dei centri fitness e oggi basate sul cloud. E siamo stati la prima azienda al mondo molti anni fa a aver messo la televisione e il display sulle macchine. Questa combinazione di software, contenuti, smart equipment e ora servizi, servizi per la persona attraverso i contenuti delle training experience online. Stiamo diventando una media company, non per fare concorrenza alla tua testata, ma noi abbiamo creato una casa di produzione cinematografica dove produciamo i video da metterli online sia sull'attrezzo ginnastica per fare delle esperienze online che possono essere on demand o live. Ma fra poche settimane lanciamo una technology app che collega tutti i touch point dell'ecosistema e puoi avere sempre a portata di mano il tuo coach intelligente che si basa sull'artificial intelligence che si adatta a te e ti permette di avere un programma personalizzato e si adatta a seconda di dove sei. Se tu sei a casa e hai un tappetino, due manubri, c'è un programma che si adatta a te. Se vai nella palestra meravigliosa a Milano ti si adatta alla palestra. Quindi oggi la tecnologia è contenuti e il futuro sono servizi. Quindi la soluzione è quella di un'esperienza come Apple fa attraverso il suo Apple Store per i contenuti, il suo telefonino intelligente, i servizi che vengono dati e assolutamente una tecnologia software avanzatissima. Ricordo una delle sue interviste di qualche anno fa dove raccontava gli esordi, quando lei girava con la valigetta in mezzo mondo per raccontare di prodotti che sembravano interessassero quasi a nessuno. Un po' come creare l'esigenza e strutturare un mercato che in pratica non c'era. Vivere in un mercato dove oggi c'è questa voglia di attenzione, come la fa sentire dopo tanti sacrifici nel percorso imprenditoriale che lei ha fatto? Devo dire che quando eravamo nel piccolo garage di casa, io e mio fratello, io avevo 21 anni, lui 17… E poi anche questa è una bella similitudine con Apple, per cui… E spiegavo agli amici che mestiere facevano, mi guardavano e dicevo che ero matto, dicevo se tu fai delle macchine per far far fatica e te le fai pagare, devi spiegare, non esisteva il settore e quindi quello era. Poi nel 92, 5 anni dopo, abbiamo inventato questo concetto la parola wellness che non esisteva, è una nostra parola, un nostro marchio che per 20 anni nessuno comprendeva cosa fosse, perché nel 95, 96 arrivò il fitness, ma il wellness che è uno stile di vita, un approccio listico e noi raccontavamo sempre che nasce nell'antica Roma del mensano in corpo e sano e quindi è una cultura, uno stato mentale, questo ci guardavano come se noi fossimo così, astratti dei filosofi. Oggi si parla solo di wellness, Apple parla di wellness, le grandi aziende parlano di wellness, wellness negli uffici, wellness nelle vacanze, wellness a casa, cioè la prevenzione, la salute in termini di alimentazione sana, regolare attività fisica, un approccio positivo e questo modo di volersi bene è la vera sostenibilità del mondo, perché la vera sostenibilità del mondo non è mettere al centro l'ambiente, ma è mettere al centro la persona. Se mettiamo al centro la salute, l'ambiente di conseguenza è green, ma se noi obblighiamo le persone a rispettare l'ambiente, ma non rispettare se stessi è molto difficile. Una persona che cura la salute di se stessa tipicamente vive in un ambiente molto rispettato. Se una persona si droga, fuma, è una persona che non si vuole bene, tipicamente vive in un ambiente degradato. Mi permette di fare le complimenti, perché questo è il miglior discorso sul mondo ISG, sul mondo della sostenibilità che io abbia mai sentito. Per cui complimenti davvero perché il concetto di attenzione all'ambiente non passa effettivamente, come diceva lei, attraverso l'ambiente, ma passa attraverso una consapevolezza che forse voi state aiutando a creare. Sì, la wellness economy credo che prenderà il posto della green economy nei prossimi anni, perché è un approccio dove l'ambiente ha un ruolo importantissimo. Per esempio, quando si parla di wellness, la natura è importantissima, cioè essere in mezzo alla natura, vivere un ambiente bello. Per esempio, la bellezza italiana, la bellezza, il gusto, che sia in una casa, che sia in un ufficio, che sia in un attrezzo da ginnastica, aiuta il benessere. Cioè, la bellezza, si diceva, no, salverà il mondo. La bellezza, il wellness, un bel movimento, una persona che ha una buona postura, che è in forma, che è felice, che dorme bene. Diventa anche più bello da vedersi, no, alla fine. È anche più bello. È anche più bello. Poi una persona di successo come lei, normalmente, è anche più bello. Chissà perché le persone di successo sono sempre più affascinanti, adesso, al di là di tutto. No, non lo so. Senta, Alessandro. Io non so di successo, quindi io sono un designer che, no, lo dico con grande umiltà, perché sennò sembra phishing. La sua storia è questa. Io credo, e credo fermamente in un mantra che noi abbiamo, che dice che se una cosa ha successo a tale proposito, se funziona e ha successo, significa che è obsoleta. È vero, perché successo è il participio passato del verbo succedere, per cui… Bravissimo. Quindi per noi significa essere sempre una start-up e con la grande umiltà tutti i giorni, per me personalmente, come il primo di quando ero nel garage, bisogna avere una grandissima fame sempre. Bisogna avere sempre molta voglia di cambiare e di rimettersi in discussione. Quindi il successo è un pessimo consigliere. Ecco, usciamo un attimo fuori dalla sua azienda, entriamo un attimo nel paese, le do per cinque minuti lo scettro di Presidente del Consiglio. La prima cosa che farebbe? Beh, io rimetterei al centro l'orgoglio per la bandiera, rimetterei al centro l'orgoglio di essere italiani, di essere imprenditori, di essere persone che credono che si può costruire qualcosa di straordinario. Dobbiamo perdere questo vizio di padar male di noi, di fare dell'azione, di distruggerci. I peggiori concorrenti dell'Italia sono gli italiani e l'invidia e la dell'azione non è possibile che tutte le sere assistiamo a ore e ore e ore di televisione per cercare i colpevoli. Mi sembra un tribunale online di tutte le televisioni, di tutti i media. Di questo passo è ovviamente tutti si mettono in difesa e non si riesce a venire fuori. Invece, al contrario, dobbiamo dare spazio ai giovani. Quindi, prima cosa, quella che le ho detto prima. La seconda, dare spazio ai giovani. I giovani sono bravissimi, dobbiamo farli sognare, sognare. In Italia non si può sognare perché tutto è difficile. Quindi i ragazzi non hanno più, come dire, l'entusiasmo, la passione per vincere sui cinesi, per vincere sugli americani. E la terza cosa è il sistema educazionale, il sistema, chiamiamolo, della ricerca. La ricerca, l'education, quindi le scuole, per capirci. Dobbiamo, e poi me ne tengo una alla fine come quarta, ma giusto così diamo un po' anche, come dire, di spazio, di orgoglio agli imprenditori. Tutti i giorni sentiamo parlare di tutto, tranne che degli imprenditori. Di tutto, tranne del lavoro degli imprenditori che sostengono il paese, parlo gli industriali, parlo i professionisti. Cioè senza il lavoro, senza i posti, l'occupazione, senza gli investimenti, tutto il resto non c'è. Non ci ha pensato a dieci minuti in più invece che cinque secondi da Presidente del Consiglio? Non ha mai pensato alla politica, sinceramente? No, 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 sinceramente no, perché già devo far bene sto mestiere che non è facile per niente e devo imparare tutti i giorni. Ognuno deve fare il suo. Figuriamoci se un imprenditore deve mettersi a fare il politico. Non credo che questo sia… No, ma se il politico forse avesse fatto un po' di imprenditore non sarebbe male, no? Ma io voglio guardare avanti, cioè nel senso che io spero nei giovani. Io spero nei giovani. Cioè nel senso che perché, dico, i giovani devono mirare a scappare dall'Italia? Non funziona così. Cioè è incredibile. Cioè noi dobbiamo, sì, dare la possibilità di viaggiare, ma dobbiamo dare ai giovani l'orgoglio che in Italia si può fare. Ci sono dei bellissimi esempi. Diamo anche delle buone notizie, non sempre delle cattive notizie. Se lei sta in America, voglio dire, ha avuto possibilità con i cinesi di conviverci un attimo, hanno un orgoglio pazzesco per la Cina. I russi hanno un orgoglio pazzesco per la Russia, così come gli americani per la loro cammina. I francesi, i tedeschi. I francesi, non parliamo neanche. I tedeschi neanche ancora. Ma non è possibile. Non è possibile. È il miglior paese al mondo. Cioè voglio dire, abbiamo qui veramente la cultura, la qualità della vita che tutti sanno. Abbiamo delle meraviglie. Noi possiamo fare in Italia la vera Wellness Valley. La Wellness Valley non è la Romagna della fondazione wellness fatta dalla Technogym, che è un esempio di ecosistema. La vera Wellness Valley è l'Italia. Dobbiamo valorizzare il turismo, valorizzare il design, il fashion, il food. Questo DNA che è appunto alla base dell'esperienza, della cultura, della vivere bene per far diventare l'Italia il più grande produttore al mondo di benessere. Che significa valorizzare il nostro Made in Italy come prodotti da esportare con un valore aggiunto e attrarre investimenti in Italia per la Wellness Valley, l'Italia, e per i turisti, i turisti. Quindi se noi creiamo infrastrutture, qui servono grandi opere. Cioè la grandeur di un paese, i francesi l'hanno insegnato, ma questo vale in tutti i paesi, non solo in Francia, è data dalle grandi opere. Bisogna riportare la maestosità delle opere, la maestosità di un'università. Anche perché per come cambierà il mondo, per come sta cambiando il mondo, alla fine la gente si sposterà molto più per turismo, per andare a vedere posti belli, che per lavoro probabilmente. E bravo, esattamente. Si userà più Teams per il lavoro e ci sarà più tempo e più soldi, e più soldi per il turismo. Perché la gente viaggerà meno, risparmierà per il lavoro, perché usa le tecnologie e può godersi la vita, la famiglia, gli amici, per andare a vedere le bellezze naturali o le bellezze culturali. E qui non ce ne mancano. Io starei ad ascoltarla ancora per le prossime due ore e mezzo. Comunque ci pensi, perché il paese ha bisogno di persone come lei. Adesso ci penso il Presidente Draghi. Però la sensazione è quella che diceva lei, che tutti si mettono un po' sulla difensiva. Prima di lasciarsi andare a fare questo o quell'altro, c'è un attacco verticale sotto tutti i punti di vista che ti porta a riflettere sempre troppo di più su alcuni aspetti. Io sono convinto che ce la possiamo fare. Dobbiamo credere più in noi stessi e dare spazio ai giovani, ripeto, e dare agli imprenditori. Per esempio le start-up. Nascono troppo pochissime start-up in Italia rispetto al numero di abitanti e rispetto a altri paesi in percentuale. I motivi sono tanti. Alcuni li abbiamo già elencati, ma ce ne sono altri. Il sistema finanziario, tutto quello che è il cosiddetto venture capital, tutto quello che sono gli incentivi all'innovazione, quelli che sono i cosiddetti laboratori, questi incubatori li chiamano, dentro l'università. Cioè se hai un'idea in America, te la premiano. Se hai un progetto, trovi chi ti dà i soldi. Questo è, ma noi cosa ci ritroviamo fra 10-20 anni? Qual è la legacy che lasceremo alle nuove generazioni, ai nostri figli e dei nostri figli? Il wellness aiuterà. E sono convinto che abbiamo una bella chance in Italia. E poi con uno splendido interprete come lei a raccontarlo, sicuramente le cose diventeranno più facili, almeno come testimonianza. Io la ringrazio per essere stato con noi. Io la ringrazio per essere stato con noi.